Buon sabato ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono nella stazione di Deangeli e vi farò vedere qualche treno. Come avete visto nel video precedente, il revamping è andato verso Picheglie e prenderò quel treno lì per tornare verso 6-1 maggio FS. Buona visione! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ragazzi questo video è terminato Spero che vi sia piaciuto Ricordatevi di iscrivervi al canale Mettere mi piace Attivare la campanella Commentare E noi ci vediamo al prossimo video Sto prendendo il revamping per andare fino a Milano Porta Venezia Grazie a tutti Grazie a tutti